buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora in questo breve video questo breve tutorial vi spiegherò questo bellissimo programma che ormai tutti lo conoscono non sono il primo che faccio questo tutorial il programma in questione si chiama adavancis system curve che è un pulitore di file residui i file spazzatura di file di registro è tipo un file a te di pulizia di del pc come ccleaner e tutti gli altri ok ragazzi questo questo come si chiama questo toolbox si chiama toolbox di comandi programmi come vedete qua è composto da fare la scansione qui selezionate tutto adesso in linea generale non vi spiego tutto in dettaglio questo questo programma perché ci sono tutorial appositi spiegati meglio allora qui potete fare ottimizzazione all'avvio ecco pulizia della privacy cancellazione file spazzatura correggi collegamenti pulizia di registro eccetera 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 ottimizzazione internet eccetera eccetera quindi se avete problemi con il vostro pc che vedete che va lento che ci sono virus che ha bisogno di fare che avete bisogno di fare una pulizia un po un po avanzata del vostro pc per ottimizzarlo meglio anche per la velocità anche per la velocità in internet eccetera eccetera questo è il programma che fa che fa per voi vi dico da dove estrarre il programma andate sul sito ufficiale andate sul sito ufficiale andate sul sito ufficiale eccetera 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 ecc anche ci avete diverse funzioni con la prova ma va bene anche la versione gratuita allora adesso vediamo un pò ecco aggiungiamo vediamo è la scaricazione free eccolo qua sempre qua eccolo qua lo scaricate ve lo installate ok con la versione free non cambia più di tanto anche se avete la free funzionano allo stesso al vantaggio anche la versione gratuita anche se la pro ha qualche funzioncina in più come vedete qua potete sbloccare il turbo boost potete avere la protezione per i siti web per gli anti malware per protezione in tempo reale come come avere un secondo antivirus però va bene se avete computer lenti lasciate perdere ma per la pulizia generale del sistema questo qua va bene ho provato a installarlo perché tutti tutti hanno detto che va bene come programma e ragazzi questo è un piccolo tutorial se qualcuno vuole provare questo programma tanto è gratuito va bene eccetera eccetera a me ragazzi se questo video mi sia piaciuto se volete iscrivetevi al canale tutorial semplice diretto un po' così così un po' spiegato alla fai da te non è che non è che mi dirego a fare a parlare in dettagli per questi programmi qua perché ci sono tutorial meglio di me e ragazzi se vi va di provare questo programma ve lo consiglio e noi ragazzi ci sentiamo nel prossimo video mi raccomando tanto lo so che gli utenti che mi seguono mettono mi piace anche in automatico basta solo mi vedono e sono contenti per quelli nuovi che vogliono che si affacciano a un mio video mi raccomando se volete iscrivetevi al canale se volete mettete mi piace tanto non è obbligatorio se volete lo fate se no pazienza ragazzi ci sentiamo ciao a tutti e va bene lo so che certi perché non perché non so cosa non so cosa non so cosa proporvi nei video nei video ma insomma tutorial diverso ragazzi noi ci sentiamo ciao a tutti e mi raccomando per chi vuole si iscrive al canale va bene ragazzi ciao a tutti ragazzi ciao a tutti